In Liguria un'impresa artigiana su tre è a rischio chiusura entro giugno, effetti della pandemia e non solo, dati che arrivano da Confartigenato. Luca Costi, segretario regionale, non è il solo dato che vi preoccupa? Sono dati importanti, sono dati che testimoniano nel 2020 una diminuzione del 15% dell'export, un circa meno 30% di nuovi inserimenti all'interno delle imprese artigiane, una difficoltà del 38% del cesso a cheto. Sono dati che aspettano risposte anche dagli amministratori, dal governo, dalla regione, quindi da coloro che possono aiutare queste imprese a risollevarsi. La risposta possono essere i ristori? Non bastano, sono condizioni necessarie ma non sufficienti, ricordiamoci che una media porta a 2.000 circa per ciascuna impresa i ristori, servono quindi delle politiche di sviluppo, delle riforme strutturali, dalla riforma del fiscale, dalla riforma della pubblica amministrazione, dalla riforma della giustizia, dagli interventi sulle strutture. Insomma, sono molte le azioni e dobbiamo metterle in campo oggi perché non è che quando finirà la pandemia, magicamente ripartirà l'economia.